Ambiente. Regolamento aree pubbliche appartenenti al patrimonio comunale. Il settore aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione ha trasmesso al commissario straordinario il regolamento per la sponsorizzazione delle aree pubbliche appartenenti al patrimonio comunale. Un regolamento importante frutto di un lungo e certosino lavoro iniziato nel febbraio del 2021 grazie al quale Siracusa si doterà di uno strumento innovativo finalizzato al miglioramento del decoro e qualità dei servizi offerti alla collettività. Partendo dal concetto di adozione spesso ridotto alle sole rotatorie stradali si è voluta estendere la regolamentazione a diverse aree pubbliche che permetteranno la sponsorizzazione di attività. Manutenzione ordinaria e o nuova realizzazione e sistemazione di aree verdi, comprese rotatorie e bauretti stradali riqualificazione e manutenzione di aree, gioco fitness e doggy park realizzazione di aiole fioriti, allestimento vasi e ponti fioriti incremento e cura del patrimonio arborio della città e forestazione urbana acquisto e pose in opera di arredi, panchine, rastrelliere per bici realizzazione segnaletica per parchi, giardini e aree verdi della città gestione, pulizia, manutenzione e consumo eccetera di fontane e impianti di irrigazione